il treno regionale 61 53 di trenitalia proveniente da acqui terme e diretto a genova bregnole delle ore 5 37 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma odada rossiglione campoligure masone mele genova acqua santa genova costa di sestri genova borzoli genova san pierdarena genova piazza principe il treno regionale 60 51 di trenitalia proveniente da acqui terme e diretto a uvada delle ore 6 e 32 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla non sono previste fermate intermedie il treno regionale 60 50 di trenitalia proveniente da odada e diretto a acqui terme delle ore 7 06 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma mulare prasco cremolino bisone il treno regionale 61 50 di trenitalia proveniente da genova bregnole e diretto a acqui terme delle ore 7 04 e in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla allontanarsi dalla linea gialla ferma odada molare prasco cremolino bisone il treno regionale 61 79 di trenitalia proveniente da acqui terme e diretto a genova piazza principe delle ore 7 e 54 e in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma odada rossiglione campo ligure masone mele genova acqua santa genova costa di sestri genova borzoli genova san pier d'arena il treno regionale 61 81 di trenitalia proveniente da acqui terme e diretto a genova bregnole delle ore 9 e 19 e in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma odada rossiglione campo ligure masone mele genova acqua santa genova costa di sestri genova borzoli genova san pier d'arena genova piazza principe